Come ti difetti da una cosa del genere? Questo sì che è interessante Sono riuscito a prendere il tombino Come è stato possibile non lo so ma sono riuscito Non è da tutti Le vostre clip su fratelli di Gamepad Pipiripapirapap Io di patatine le ho prese tante Chiedono se vi fai rivedere la gergia Gustose, fragrane Non ce la faccio a stare senza Ora ditemi se non sembra un pene Le ho provate tutte Americane Tedesche Olandesi Con la sorpresa Le mangiavo così senza tanti complimenti Anche tre alla volta Ma nessuno è come questo 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 Questa è la scena Questa è missione Se questo video ti è divertito e ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale ma soprattutto vienici a trovare sul canale Twitch